Anna Salvatore è una delle più giovani rappresentanti della generazione neorealista. Spicca nelle sue tele la figura umana, il volto altero e la sorta espressione della gente del popolo. Che cosa nascerà da questi rapidi sicuri colpi di spatola? Quasi evocato dal fondo della tela, un placido ritratto di giovane donna apparirà via via composto nella sua freschezza, come a nuova vita. Anna Salvatore, unicamente interessata e commossa dalla verità della vita, introduce nel panorama della pittura moderna la descrizione della sensualità, dell'abbandono, della contemplazione. La sua arte è una cronaca sensibile dei fatti d'ogni giorno, dei semplici sentimenti umani. Ecco il quadro che ad ogni casa, ad ogni ambiente dà un'impronta di buon gusto, di personalità. Ecco il brandy che in una cornice di eleganza dona ad ogni ambiente, ad ogni casa la propria personalità. In tutte le occasioni un senior brandy fabbri, al bar, in casa, ovunque senior fabbri. Senior fabbri, il brandy invecchiato nel tempo.